Il libro che mi è capitato tra le mani e che vorrei sfogliare un po' con voi, sfogliare nelle righe che mi è capitato di sottolineare quando l'ho letto, è un libro del 76, l'anno dopo in cui ho cominciato a lavorare io come medico, io ho cominciato nel 75. Si tratta di Nemesi Medica di Ivan Illich, quindi sono passati 45 anni più o meno, insomma, da quando è stato scritto ed è stato un libro che ha suscitato abbastanza polemiche, insomma. Certo, Ivan Illich ha avuto anche delle grandi intuizioni, insomma, è stato uno che ha studiato e ha capito anche molto della società contemporanea, insomma, no, perché poi non si è dedicato soltanto ad esaminare le problematiche connesse all'uso della medicina soltanto, ma anche dei vari servizi, insomma, della società in generale. E quindi è stato uno studioso importante che ha fatto parlare di sé e che ha avuto, secondo me, anche delle grandi intuizioni. Mi piaceva in questo video provare a vedere quanto di quello che lui diceva 45 anni fa può risultare ancora vero, condivisibile, quanto invece è stato superato dalla storia, dal progresso, dall'avanzare della tecnica, è cambiato mondo, insomma, in questi 45 anni, però quanto di quello che lui diceva ancora si mantiene vero e quanto, anzi, lui è riuscito a precorrere nei tempi, quanto è riuscito a capire di quello che sarebbe poi potuto ancora avvenire nel futuro. Fa bene, insomma, no? Fa bene perché poi uno dei modi per capire è anche per valutare, se poi si possono valutare le persone, ma insomma anche i scienziati, insomma, per rendere credibili gli scienziati è anche quello di vedere a distanza quanto delle loro previsioni, quanto delle loro affermazioni risulta vero o quanto invece la storia si incarica di smentire. E quindi mi limiterò a scorrere un po' questo libro con voi per quello che riguarda le sottolineature che ho fatto, insomma, alcune frasi che mi sono rimaste un po' impresse e a leggervi queste frasi che ho sottolineato, non tutte ovviamente. Quello che si deve dire di questo libro è che ha una grande bibliografia, insomma, è quasi grande la bibliografia quanto il libro, il che ci fa capire che quanto affermava comunque Vanillis era tutto documentato ed era, insomma, non soltanto una sua idea, ma insomma lo ricavava anche dalla letteratura che aveva avuto modo di consultare quando ho scritto questo libro. Allora, proviamo a leggere qualcosa, sentirete sfogliare perché, insomma, sfoglierò. Ovviamente saranno tutte frasi che non saranno argomentate perché chi vorrà eventualmente argomentarle può riandare al libro, insomma, al testo originale, ma sono soltanto spunti di riflessione e potrebbero anche essere spunti di, come dire, di osservazioni, di commenti, di dibattito, se si può fare anche un certo dibattito. Cominciamo. I due terzi di tutti i decessi sono ormai collegati ai malanni della vecchiaia. I servizi sanitari non hanno avuto un peso importante nel produrre le modifiche avvenute nella speranza di vita. Le epidemie venivano e se ne andavano, esorcizzate da entrambi, ma non impressionate né dagli uni né dagli altri. E se non vengono modificate dai riti celebrati nelle cliniche mediche, più di quanto lo fossero dai tradizionali scongiuri ai piedi degli altari. Questa recessione si può attribuire alla diminuita virulenza dei microorganismi e al miglioramento degli alloggi, ma il fattore di gran lunga più importante è stato una maggiore resistenza individuale dovuta alla migliore alimentazione. Qua si riferiva un po' anche alle malattie infettive in generale. L'ambiente è il primo determinante dello stato di salute generale in qualunque popolazione. Mentre le vecchie cause di malattie regrediscono, una nuova specie di malnutrizione sta diventando l'epidemia moderna di più rapido sviluppo. Un terzo dell'umanità sopravvive a un livello di denutrizione che una volta sarebbe stato letale. Mentre una quantità crescente di gente ricca assorbe sempre maggiori dosi di veleni e di mutageni nei propri alimenti. L'intervento, specificamente medico, non appare mai collegato in maniera significativa a un calo della morbosità globale o a un aumento della speranza di vita. I medici riescono più di altri professionisti a distribuirsi come preferiscono e tendono a concentrarsi dove il clima è sano, l'acqua pulita, la gente lavora e può pagare le loro prestazioni. Una tecnologia imponente, unità retorici e discorsi egualitari, ha creato l'impressione che la medicina contemporanea sia altamente efficace. La farmacoterapia dell'ipertensione arteriosa è efficace e giustifica il rischio di effetti collaterali in pochi casi di estrema gravità. Costituisce un notevole rischio di danno serio, di gran lunga superiore a qualunque di beneficio accertato per 10-20 milioni di americani, a cui sconsiderati stagnini delle arterie cercano di propinarla. La sofferenza, le disfunzioni, l'invalidità e l'angoscia conseguenti all'intervento della tecnica medica rivaleggiano ormai con la morbosità provocata dal traffico, dagli infortuni sul lavoro e dalle stesse operazioni collegate alla guerra e fanno nell'impatto della medicina una delle epidemie più dilaganti del nostro tempo. I medicinali sono sempre stati virtuali veleni, ma i loro effetti secondari non desiderati sono aumentati di pari passo con la loro potenza e diffusione. Dal trattamento medico di malattie inesistenti derivano non malattie inabilitanti, le quali non fanno che aumentare. La sofferenza e l'infermità inflitte dai medici hanno sempre fatto parte della pratica medica. Nella complessa tecnologia di un ospedale la negligenza diventa casuale errore umano o avalia del sistema. L'insensibilità distacco scientifico. L'imperizia mancanza di attrezzature specializzate. La spersonalizzazione della diagnosi e della terapia ha cambiato la malapratica da problema etico in problema tecnico. Questa iatrogenesi medica comprende non soltanto il danno che i medici infliggono nell'intento di guarire o di sfruttare il paziente, ma anche quegli altri danni che discendono dalla preoccupazione del medico di tutelarsi da un'eventuale denuncia per malapratica. A un secondo livello la pratica medica promuove malessere, rafforzando una società morbosa che spinge la gente a diventare consumatrice di medicina, curativa, preventiva del lavoro dell'ambiente. La iatrogenesi di secondo livello si manifesta in vari sintomi di supermedicalizzazione sociale che costituiscono quella che chiamerò espropriazione della salute. A un terzo livello le cosiddette professioni sanitarie hanno sulla salute un ancor più profondo effetto negativo d'ordine culturale, in quanto distruggono la capacità potenziale dell'individuo di far fronte in modo personale e autonomo alla propria umana debolezza, vulnerabilità, unicità. Involontari sottoprodotti fisiologici, sociali e psicologici al progresso diagnostico e terapeutico sono diventati resistenti ai rimedi sanitari. I nuovi apparecchi, metodi ed espedienti organizzativi che si escogitano per rimediare alla iatrogenesi clinica e sociale, tendono essi stessi a diventare fattori patogeni che contribuiscono alla nuova epidemia. I provvedimenti tecnici e burocratici, che vengono presi a tutti i livelli per evitare che il malato sia danneggiato dalle cure che riceve, tendono ad avvolgersi di una spirale iatrogena, con un processo analogo alla crescente distruzione generata dagli inquinanti misura che si prendono per combattere l'inquinamento. Quando una città viene costruita intorno ai veicoli, toglie valore ai piedi umani. Quando la scuola ha la prelazione sull'apprendimento, svaluta l'autodidatta. Quando l'ospedale diventa il centro di raccolto obbligato di tutti quelli che si trovano in condizioni critiche, impone alla società una nuova forma di agonia. I monopoli comuni si accaparrano il mercato. I monopoli radicali rendono la gente incapace di fare da sé. Il monopolio commerciale limita il flusso delle merci. Il monopolio sociale più insidioso paralizza la produzione dei valori d'uso non commerciabili. L'istruzione intensiva fa dell'autodidatta un candidato alla disoccupazione. L'agricoltura intensiva elimina il contadino autosufficiente. Lo spiegamento di polizia sgretola la capacità d'autocontrollo della comunità. La propagazione maligna della medicina ha risultati analoghi. Trasforma l'assistenza reciproca e l'automedicazione in atti illeciti o criminosi. La medicina iatrogena rafforza una società morbosa nella quale il controllo sociale della popolazione da parte del sistema medico diventa un'attività economica fondamentale. Serve a legittimare ordinamenti sociali in cui molti non riescono ad adattarsi. L'individuo che è irritato, nauseato e menomato dal lavoro e dallo svago industriale può trovare scampo solo in una vita sotto vigilanza medica e viene così distolto o escluso dalla lotta politica per un mondo più sano. La medicina crea sempre la malattia come stato sociale. Il guaritore ufficialmente riconosciuto trasmette agli individui le possibilità sociali di comportarsi da malati. La medicina è un'impresa morale e inevitabilmente perciò dà contenuto al bene e al male. La medicina crea un nuovo gruppo di diversi ogni volta che fa a Tecchio una nuova diagnosi. La misura più semplice della medicalizzazione della vita è la quota del reddito anmo tipico che viene spesa su ordine del medico. In America prima del 1950 essa era inferiore al reddito di un mese, ma nella metà degli anni 70 l'acquisto di servizi medici assorbiva l'equivalente di 5-7 settimane del salario tipo di un operaio. Gli Stati Uniti spendono ora intorno a 95 miliardi di dollari l'anno per l'assistenza sanitaria, cioè circa l'8,4% del prodotto nazionale lordo del 1975 contro il 4,5% del 1962. Il tasso di crescita del settore sanitario ha progredito più rapidamente di quello del prodotto nazionale lordo. Un'assai più consistente fetta dell'aumento è andata a un esercito di passacarte sanitari che, per restare all'esempio degli Stati Uniti, le università hanno cominciato a insegnare di titoli a partire dagli anni 50, dai diplomati in supervisione infermialistica e laureati in gestione ospedaliera, fino a tutti gli svariati ranghi inferiori che vanno a inglossare le nuove burocrazie. Il costo, che comporta l'amministrazione del paziente, dei suoi incartamenti e degli assegni che gli spicca e riceve, arriva ad assorbire fino a un quarto di ogni dollaro del suo conto. Un'altra parte va poi alle banche. In alcuni casi, i cosiddetti costi amministrativi legittimi, nel ramo delle assicurazioni contro le malattie, sono arrivati al 70% delle somme versate dalle compagnie assicuratrici. Ancora più rilevante è il peso del nuovo pregiudizio favorevole alle dispendiosissime cure ospedaliere. I costi amministrativi sono esplosi, moltiplicandosi per sette dal 1964. Le spese di laboratorio sono cresciute di cinque volte, le retribuzioni dei medici di due soltanto. La costruzione di ospedali costa oggi più di 85.000 dollari per letto, due terzi dei quali servono ad acquistare attrezzature meccaniche, destinate a invecchiare in meno di dieci anni. Questi ritmi di incremento dei costi e di obsolescenza sono quasi il doppio di quelli tipici dei sistemi d'armamento moderni. Il gonfiamento dei costi nei programmi del Dipartimento americano della Sanità, Educazione e Assistenza supera quello del Pentagono. La fenomenale ascesa del costo dei servizi sanitari americani è stata spiegata in vari modi. Alcuni danno la colpa alla pianificazione irrazionale, altri all'alto costo degli aggeggi che la gente vuole negli ospedali. L'interpretazione attualmente più diffusa si rifà alla crescente incidenza del pagamento garantito in anticipo. Gli ospedali accolgono pazienti ben coperti dalle assicurazioni e, anziché fornire vecchi prodotti in maniera più efficiente ed economica, hanno tutto l'interesse ad adottare metodi nuovi e sempre più dispendiosi. La causa fondamentale dell'aumento sarebbero i prodotti che cambiano, e non il più elevato costo del lavoro, la cattiva amministrazione o l'insufficiente progresso tecnologico. In questo visuale il mutamento dei prodotti sembra appunto dovuto alla cresciuta copertura assicurativa, che spinge gli ospedali a fornire una merce più costosa di quella che il consumatore effettivamente vuole o di cui ha bisogno, e che sarebbe stato disposto a pagare di tasca propria. Gli esborsi diretti dell'utente appaiono sempre più modesti, benché l'assistenza offerta dall'ospedale sia più costosa. L'assicurazione sulle cure sanitarie dispendiose è così un processo a spirale, che conferisce ai fornitori di assistenza il controllo di risorse crescenti. I diversi sistemi politici organizzano le patologie in differenti malattie e creano così diverse categorie di domanda, di offerte e di bisogni soddisfatti. Nella prima settimana, seguita il colpo militare dell'11 settembre 1973, molti, tra i più dichiarati fautori di una medicina basata sull'azione comunitaria, anziché sull'importazione e sul consumo dei prodotti farmaceutici, vennero assassinati. Negli Stati Uniti, i prodotti che agiscono sul sistema nervoso centrale sono il settore in più rapido sviluppo sul mercato farmaceutico e rappresentano ora il 31% delle vendite complessive. Gli sforzi promozionali del produttore sono indirizzati al consumatore strumentale, vale a dire il medico che prescrive il prodotto ma non lo paga. Per il malato, diceva Ippocrate, il meno è il meglio. Il più delle volte la cosa migliore che un medico colto e coscienzioso possa fare è convincere il paziente che egli può vivere con la sua menomazione, rassicurarlo che finirà con ristabilirsi o che nel momento in cui ne avrà bisogno si sarà la morfina, fargli quello che avrebbe fatto la nonna. E per il resto, rimettersi alla natura. Il fatto che la medicina moderna è diventata molto efficace nel trattamento di sintomi specifici non significa che recchi maggior beneficio alla salute dei pazienti. La vecchiaia, per esempio, variamente considerata ora un dubbio privilegio, ora una pietosa conclusione, ma mai una malattia, recentemente è stata messa sotto controllo medico. Circola un numero relativamente maggiore di vecchi e questi tendono in misura crescente ad essere malati, spostati e privi di aiuto. La grande maggioranza delle cure per i vecchi che richiedono l'intervento professionale non solo tende ad acuire le loro sofferenze, ma quando ha successo anche a prolungarle. Quanto più la vecchiaia diventa soggetta a servizi d'assistenza professionale, tanta più gente viene spinta in istituti specializzati per gli anziani, mentre l'ambiente di casa, per quelli che resistono, si fa sempre più in ospitale. Il tasso di mortalità durante il primo anno dopo il ricovero è sensibilmente più alto di quello che si registra fra i vecchi che rimangono nel loro ambiente abituale. Da vecchi e deboli, talvolta miseri e amarezzati dall'abbandono, si tramutano i membri ufficialmente riconosciuti del più triste fra i gruppi dei consumatori, quello degli anziani, programmati per non ottenere mai abbastanza. L'impresa medica crea non soltanto una legittimazione dell'uomo consumatore, formulata in termini biologici, ma anche nuove spinte verso un'escalation della mega macchina. La selezione genetica degli individui più adatti a tale macchina è il logico passo successivo del controllo medico-sociale. Mentre l'intervento curativo si veniva concentrando sempre più su strati per i quali esso è inefficace, costoso e doloroso, la medicina cominciava a smerciare prevenzione. Il concetto di morbosità si è esteso fino ad abbrazzare i rischi prognosticati. Dopo la cura delle malattie, anche la cura della salute è diventata una merce, cioè qualcosa che si compra e non che si fa. Quanto più alto è lo stipendio pagato dall'azienda, quanto più elevata è la posizione che si occupa nell'apparato, tanto più conviene spendere perché una così preziosa rotella della società si è sempre ben lubrificata. La spesa per la conservazione della forza lavoro ad alto contenuto di capitale è la nuova misura di status per le classi alte. Per essere all'altezza dei Brambilla, oggi bisogna consumare il check-up, come si dice in termine inglese. Ci si tramuta in pazienti senza essere malati. La medicalizzazione della prevenzione diventa così un altro grande sintomo della iatrogenesi sociale. Essa tende a trasformare la mia responsabilità personale per il mio futuro in gestione del mio essere da parte di qualche agenzia. Le diagnosi eseguite dal medico e dai suoi aiutanti possono stabilire per il paziente dei ruoli o temporanei o permanenti. In tutti e due i casi, esse aggiungono a una condizione biofisica uno stato sociale che discende da una valutazione presumibilmente autorevole. Quando un dottore fa la diagnosi a un essere umano, lo influenza. La caccia, su scala di massa, ai rischi per la salute comincia zettando grandi reti destinati a catturare tutti quelli che hanno bisogno di speciale tutela. Visite mediche prenatali, cliniche per l'assistenza di bambini in buona salute, check-up nelle scuole fra gli iscritti alle associazioni giovanili, compagnie di medicina preventiva organizzate da enti assistenziali. Recentemente si sono aggiunti consultori di genetica e per il controllo della pressione sanguigna. Gli Stati Uniti sono stati orgogliosamente all'avanguardia del mondo nell'organizzare la caccia alle malattie e successivamente nel metterne in dubbio l'utilità. Più di una ventina di studi mostrano che tali accertamenti diagnostici, anche quando sono seguiti da cure mediche di alto livello, non hanno alcuna ripercussione positiva sull'attesa di vita. L'ironia è che i disturbi gravi e senza sintomi apparenti che soltanto con questo tipo di indagini si riesce a scoprire fra gli adulti sono spesso malattie inguaribili e una loro cura precoce non fa che aggravare le condizioni fisiche del soggetto. In ogni caso, esse trasformano delle persone che si sentono bene in pazienze ansiosi di conoscere il loro verdetto. Nell'identificazione della malattia la medicina fa due cose scopre nuovi disturbi e attribuisce questi disturbi a concreti individui. Scoprire una nuova specie di malattia è l'orgoglio del medico ricercatore. Attribuire la patologia a Tizio, Caio o Sempronio è il primo compito del medico in quanto membro di una professione che tratta col pubblico. Educato a fare qualcosa e ad esprimere il suo interessamento egli si sente attivo, utile ed efficace quando può diagnosticare una malattia. Anche se teoricamente al primo incontro il medico non presume nulla circa lo stato di salute del suo paziente di solito, per una forma di garanzia dall'errore egli si comporta come se attribuire al paziente una malattia fosse meglio che non notarla. La propensione diagnostica in favore della malattia si combina con frequenti sbagli di diagnosi. La medicina non soltanto imputa categorie discutibili con entusiasmo inquisitorio ma lo fa con un tasso di errore che nessun sistema giudiziario potrebbe tollerare. Al pregiudizio e all'errore di diagnosi si aggiunge poi l'aggressione gratuita. Quando uno è passato più o meno indenne attraverso una serie di esami di laboratorio e finalmente viene fuori qualcosa di positivo corre allora il grandissimo rischio di essere sottoposto a terapie che in simili casi sono generalmente esecrabili dolorosissime mutilanti e dispendiose. Non stupisce che i medici tendano a ritardare più dei profani prima di presentarsi al proprio dottore e che siano in condizioni peggiori quando ci vanno. L'esecuzione sistematica di controlli e diagnostici precoci su vaste popolazioni garantisce al medico ricercatore un'ampia base da cui attingere i casi che meglio si adattano ai sistemi di cura esistenti o che sono più utili per portare avanti le indagini servano o no le terapie a guarire o a dar sollievo. Ma mentre avviene questo le persone si rafforzano nell'idea di essere delle macchine la cui durata dipende dalle visite all'officina di manutenzione ma sono così non solo obbligate ma trascinate a pagare perché la corporazione medica possa fare i suoi studi di mercato e sviluppare la sua attività commerciale. La diagnosi sempre aggrava lo stress stabilisce un'incapacità impone inattività concentra i pensieri del soggetto sulla non guarigione sull'incertezza e sulla sua dipendenza da futuri ritrovati medici tutte cose che equivalgono a una perdita di autonomia nella determinazione del sé. Inoltre isola la persona in un ruolo speciale la separa dai normali e dai sani ed esige sottomissione all'autorità di un personale specializzato. Alla lunga l'attività principale di una simile società dai sistemi introvertiti porta alla produzione fantomatica di una speranza di vita come MERS identificando l'uomo statistico con gli uomini biologicamente unici si crea una domanda insaziabile di risorse infinite l'individuo è subordinato alle superiori esigenze del tutto le misure preventive diventano obbligatorie e il diritto del paziente a negare il consenso alla propria cura si vanifica allorché il medico sostiene che gli deve sottoporsi alla diagnosi non potendo alla società permettersi il peso di interventi curativi che sarebbero ancora più costosi. di interventi di interventi di interventi